I complimenti sono d'obbligo, so che le interessano poco, però avete fatto una gran partita. No, dispiace, due squadre che hanno giocato a calcio, secondo me il primo tempo meritiamo qualcosa di più noi, anche il secondo tempo, secondo me, con 3-4 contobietti importanti abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, poi mi ha preso questo gol da valutare, però se l'Abitro ha visto così, mi dispiace perché la squadra meritava qualcosa di più. Volevo chiedere se l'aveva proprio pensata così la partita, nel senso con il fraseggio, con la corsa, con l'organizzazione a mettere in difficoltà il Pescara nella tre quarti campo. Ma sì, perché poi il Pescara l'ha incontrato in campionato andato in ritorno, io ho detto ai ragazzi di giocare a palleggiare un po', perché loro non vengono attaccati sopra, aspettavano un po', noi che i giocatori importanti a palleggiano, l'abbiamo messo in difficoltà. Anche senza Battistella che secondo me è il miglior giocatore che avete. Battistella è il miglior giocatore, non solo da C, ma anche da Serie A, Battistella è un giocatore da due anni, ma è nazionale. Addirittura? Sì, sì, è un giocatore che secondo me farà carriera. Ma questa carrarese con Di Natale in campo quanti gol avrebbe fatto? No, ormai faccio allenatore, credo che oggi... Sì, sì, anche in minuto posso ancora giocare, però faccio i complimenti alla squadra, faccio i complimenti al Pescara, perché è stata una bella... Aspetta qualcosa di più dal Pescara? No, ma siamo stati bravi noi, secondo me il Pescara è andato in difficoltà, sul nostro parleggio, nella nostra ripartenza, ha fatto più fatica. Una domanda da studio per il tecnico di Natale. Allora, la faccio rivolgere a Gianluca Cornello, che è stato avversario di Totò di Natale in tante partite in serie. Ciao Totò, ti volevo fare i complimenti perché hai fatto quest'anno un grossissimo lavoro, bravo. Bravo, continua così perché... Grazie. Anche oggi avete disputato una buonissima partita, avete fatto circolare bene la palla e poi alla fine, negli ultimi 3-4 minuti avete avuto un'occasione giusta. So che dipende, dopo tu hai giocato, dipende dalla qualità, però vi siete preparati bene ad arrivare alla conclusione. Poi dipende dalla qualità dei giocatori. Ti volevo dire veramente complimenti per il lavoro ottimo che hai fatto quest'anno. Grazie. Noi purtroppo siamo venuti a due manifestazioni da Cesena in caso che hanno preso nove gol in due partite. Io ho parlato con i ragazzi, l'obiettivo era quello di raggiungere i play-off. Sappiamo che una squadra come il Pescara era fortissima, però io credo oggi non posso dire niente ai ragazzi, non posso dire niente a nessuno perché poi ha dimostrato questa grande squadra perché poi il Pescara con noi fino alla fine siamo alla partita a punti e alle diverse. Purtroppo noi abbiamo solo un bandaggio di vincere, non siamo riusciti, però faccio il complimento alla squadra.